amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazioni autosportive oggi facciamo una puntata indoor diciamo riprendendo un argomento che abbiamo già trattato diverse volte però siccome dalle domande che spesso riceviamo vengono fatte delle richieste di approfondimento abbiamo deciso di fare una puntata riprendendo il discorso dell'impianto frenante allora l'impianto frenante ovviamente con l'ottica di migliorare l'impianto frenante della vettura di serie per avere un accorciamento della frenata e avere maggior sicurezza quindi partiamo dal discorso che l'impianto frenante ovviamente composto da determinati componenti partiamo dalla pompa dei freni partiamo da tutta la parte dove passa l'idraulica cioè l'olio dei freni quindi le tubazioni che arrivano sulle sulle pinze dei freni e attivano i cilindretti che vanno a chiudere le pastiglie sui dischi questo tecnicamente un impianto frenante funziona in questa maniera poi tralasciamo l'abs tralasciamo i ripartitori di frenata quant'altro diciamo molto empiricamente in maniera molto semplice questa normalmente le macchine quasi tutte tranne ovviamente le macchine iper sportive che per forza di cose devono avere già un impianto frenante migliore come qualità quasi tutte le macchine anche macchine con potenze rilevanti hanno un impianto frenante stock cioè stock cosa significa che hanno il disco solitamente in ghisa e sono anche lì divisi fra dischi monolitici o dischi compositi cioè dove hanno praticamente la parte della diciamo dell'attacco sul mozzo separato con le vitine dalla parte esterna da quella che si chiama la pista frenante il disco si può scomporre in due parti lì già parliamo di macchine molto particolari con questo tipo di differenza comunque un disco normale prendiamo un esempio di una macchina normale una golf 1500 piuttosto che una una giulietta quello che vogliamo hanno dischi come questi cioè monolitici fatti in ghisa in un unico pezzo poi ovviamente a seconda del tipo di macchina gli anteriori saranno sempre autoventilanti l'auto ventilazione questa differenza e questo spazio che c'è fra diciamola le due le due parti esterne interne del disco e in alcuni casi il disco posteriore su macchine con meno potenza sono dischi non autoventilanti quindi sono dischi più sottili e anche più piccolini come diametro le pastiglie ovviamente sono adeguate per come mescola per arrivare a generare una determinata temperatura oltre la quale chiaramente creerebbero problemi sul 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 disco questo significa che una macchina stock normale può arrivare a una temperatura in frenata fino a un determinato numero di gradi oltre chiaramente non ci può arrivare quindi questo comporta il fatto che tante volte la frenata un pochino lunga l'olio poi soprattutto macchina di serie dove non è stato cambiato recentemente non è stato cambiato dalle cadenze regolari diciamo che perde una parte di efficacia quindi la frenata si può tranquillamente migliorare come si fa senza andare a mettere un impianto frenante maggiorato che è una soluzione direi estrema ea livello stradale non estamente lo sconsigliamo nel senso che a salvo rari casi una macchina viene normalmente costruita da uno studio tecnico che è molto più competente rispetto a qualunque preparatore noi compresi o qualunque azienda che produce impianti frenate cioè stati fatti degli studi e dei test in strada sui quali ineccepibili poi può essere un disco un pochino più piccolo si può per dire migliorare però normalmente sono dimensionati rispetto alla massa della vettura quello che si può migliorare invece notevolmente è il discorso dei materiali a questo punto si mantiene la pinza ovviamente la pinza di serie non si tocca si mantengono i diametri dei dischi anteriori e dei dischi posteriori e si fa cambiare il materiale di attrito cioè si prendono sempre dei dischi in questo caso ovviamente sempre in ghisa non si possono cambiare il materiale sempre ghisa però è una ghisa che è temprata per sopportare un grado termico una temperatura notevolmente superiore rispetto a quelle di serie questo che cosa comporta comporta il fatto che io a questo punto posso accoppiare a questo disco che normalmente è lavorato sulla faccia su cui abbiamo dei dischi zimmermann che sono forati di solito non utilizziamo o gli zimmermann o molto più molto di più gli abc che sono baffati e puntati quindi hanno una superficie che non è più liscia come quelle di serie ma non una superficie lavorata su questa superficie andiamo ad accoppiare delle pastiglie in questo caso queste sono delle pastiglie abc con la mescola gialla quindi vuol dire a seconda del della casa ovviamente e del colore della mescola sappiamo fino a che grado di temperatura possono arrivare escludiamo escludiamo il consiglio cioè la di consigliare al cliente pastiglie come come uso troppo agonistiche perché in questo caso dovrebbero essere messi in temperatura e questo comporta il fatto che se c'è la necessità di fare una frenata repentina non si può prima mettere l'impianto frenante in temperatura quindi noi forniamo sempre materiali sportivi stradali quindi il discorso delle racing o uno la usa unicamente in pista allora viene messa una pastiglia con un maggior tenore di carbonio con un colore diverso che sopporta una temperatura ancora maggiore ma in questo caso il 99 per cento dei nostri clienti la usano in strada quindi si accoppia una pastiglia più dura che quindi creerà un maggior calore questo calore verrà sopportato senza particolari problemi da un disco che è stato temperato in maniera diversa rispetto a quello stock e automaticamente la frenata si accorcerà rispetto al all'impianto di serie ovviamente a seconda del noi consigliamo sempre di fare il lavoro su tutte e due gli assi anteriore posteriore il minimo percorribile parlo quanto meno sull'anteriore perché sull'anteriore grava il peso del motore la la massa della macchina quando la macchina frena sposta in peso soprattutto sull'asse anteriore non peraltro il diametro di dischi anteriori è sempre maggiore di quelli posteriori quelli posteriori ovviamente oltretutto avendo un ripartitore di frenata hanno una lavorano più o meno per il 30 per cento rispetto a quelli anteriori quindi la strada minimo percorribile è quello di cambiare quanto meno dischi e pastigli anteriori però se uno cambia tutto sia l'anteriore che il posteriore fa un lavoro più completo e tecnicamente migliore al di là di quelli che sono i materiali i materiali di attrito quello che noi consigliamo è di cambiare anche le tubazioni le tubazioni dei freni queste poi sono rivestite in gomma però la tubazione interna è in maglia d'acciaio mentre le tubazioni stock sono unicamente in gomma quindi su macchine che hanno più di cinque anni la l'olio dei freni è molto corrosivo oltre che essere igroscopico per cui trattiene l'umidità e per questo motivo deve essere cambiato almeno ogni due anni perché sennò si carica di acqua e perde una parte una parte delle caratteristiche e quindi va in ebollizione prima una cosa che tanti non sanno ma che cambia molto è quella di sostituire le tubazioni di freni ogni cinque anni in maniera tale che il diciamo la tubazione in gomma non crei più quello che si dice in gergo l'effetto polmone c'è una parte della pressione che dovrebbe arrivare ai cilindretti della della pinza non si non va dissipato nella dilattazione del tubo in questo caso con un tubo rigido rigido un tubo in maglia metallica chiaramente si può muovere però un tubo in maglia metallica non si può dilatare e a questo punto la pressione generata dalla pompa arriva al 100 per cento sul sui cilindretti della pinza in questo modo abbiamo eliminato un problema che con l'andare degli anni diventa sempre più sempre più grave e avendo un diciamo materiale di attrito sicuramente molto più qualitativamente molto migliore rispetto a quelli stock la frenata ne beneficia io direi che per qualunque tipo di domande mi potete appunto o contattare in sede o lo vediamo poi nei commenti o comunque rispondo a tutti quello che vi chiedo sostanzialmente è quello di cliccare sulla campanella ed iscrivervi al canale per aiutarci a farlo crescere sempre di più in modo tale da avere un maggior numero di persone che ci possono seguire anche al di là di quelle che sono le prove sulle macchine i lavori che facciamo direttamente sulle macchine anche per documentarsi su quelle che sono degli aspetti tecnici un pochino più generici per qualunque informazione ripeto mi trovate in sede per il resto ci aggiorniamo la prossima puntata un saluto ciao 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 ciao